sono le 8 del mattino e c'è già chi gioca a basket potresti ridire quello che mi hai detto prima come mai sei qui alle 8 del mattino perché dopo sono testimoni di notte e quindi e quindi un'oretta di tiri prima di scaricare un po di tensione capito questo è il playground anzi anci ground da oggi del parco della bissuola non c'è problema dimmi quale ci sei la macchina la telecamera non funziona più pronto è allo schermo tutto bianco come se avesse preso acqua i cristalli non so dirti no in teoria perché no della telecamera non so neanche se sta registrando perché è tutto bianco si è stato così bravo sei diventato e chi te l'ha insegnato no 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 Sì, posso ripetere un'altra volta? 4 ANCI 2008 4 ANCI 2008 4 ANCI 2008 Ok Come si dice Romano 4 ANCI 2008 4 ANCI 2008 Ecco 2008 4 ANCI 2008 Come? Bene? Bene Anci 2008 Fa me, fa me Questo Orga Gaudio è offerto da MSC Crociere Vengo dal Viesimo Vengo il motorino e mi piace il tramezzino Ecco Grinch, ecco Grinch Dimmi la tua verità Dimmi la tua verità E non sarà la mia Dimmi la tua verità E non caccia la fia Dimmi la tua verità Dimmi la tua verità E non caccia la fia Dimmi la tua verità E non caccia la fia Dimmi la tua verità Tra la tua verità Altra verità Questo era tutto un riscatamento E non caccia la fia E non caccia la fia Bravo, Kiko Bravo Grazie